Non vieni qua, non vieni qua. No, 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 è pastito, è pastito, vai. Allora, oggi cosa mangiamo? Frutta bassa di pesce. No, mazzo! Allora, oggi stanno... Troffe... come si chiama? Troffe. Troffe a frutte di mare, vedi? Le cozze, i gamberè, le seppie. Ci sono laurati, i gamberoni, le triglie. E facciamo le troffe a frutte di mare, poi il gamberone a rostre, le triglie a rostre, e un'altra a rostre. Allora la faccia del coschino. Non c'è la rollo frangheita. Adesso vi faccio vedere il prodotto dal vivo. Voi vi faccio vedere il cotto. Ma è stato buono. D'amore, è stato buono. Sono stato. Guarda che meraviglia, guarda. Guarda che meraviglia, guarda. Guarda che meraviglia, guarda. Eccoci qua. Fatemi vedere tutti. Zia Mari Lisa. Maria. La pupa. Caterina. Ciao. Questa è Lisa. Saluta Isa. Ciao Lisa. Saluta Francesca. Saluta. Bravo. I bimbi. Perfetto. Dai Piero i sei. Dai cinque. Guarda cinque. Franchino. Mamma. Di giù. Di giù. Di giù. Sì come Francesco ha salutato anche. Franchino sai cosa dici? Oh devo andare a fare la pasta. In questa casa non si mangia mai. Mamma ti dai un pesce cane? Non c'è qua pesce cane amore. Sta al mare. Sì. Ecco. Luce. Allora qua vedete? Si vede? A me. 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 Ma bu. Questa è una frutta di mare. Le troffa di mare. Qua sono le troffe. Vedi? Uno. Troffe la cucina questa. Vedi le troffe. Vedi? Vedi qua? Vedi le troffe? Stanno cucinando. Vieni la. Ora vieni la. Ok. Ok. Allora. come sono la pasta signore com'è la pasta come è come buona brutta tutta la stata la segna eh complimenti buonissime bravo no no fai a me buono spiegi a me petra saluta madonna madonna ciao anna vai questo registro vai luce ma di qualcosa eh le lettrini si bruciano vedi però no 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 a me se vende una fiesta io non me la calcetta Gira, 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 fa una gira! Mi gira questa! Dio da forse! Basta, spieghi!